C'è forte preoccupazione per il trasporto degli studenti da parte dell'AMA, la municipalizzata comunale. A meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico, i consiglieri comunali Stefano Palumbo del PD e Paolo Romano del Passo Possibile esprimono forte preoccupazione. Tra autobus acquistati a Milano, non immatricolati e debiti dell'azienda, il futuro per loro non è affatto roseo. La situazione è drammatica, non si affronta il problema principale, quello del capitale sociale ormai eroso. Tre esercizi finanziari in perdita, così come sarà il quarto, quello del 2019, che chiuderà anch'esso in passivo. E' una situazione che ha dei risvolti pratici. Ad esempio è stato possibile per l'azienda immatricolare gli autobus che ha acquistato da poco da Milano. Quindi a fronte del rischio e della necessità di dover rottamare ben 25 autobus ormai vecchi perché euro zero, l'impossibilità per Milano è chiaro che viene meno anche la possibilità di garantire una sicurezza sul servizio scolastico che è quello principale che viene impegnata l'azienda. L'amministratore unico dell'azienda, Berardi, dicono i due, ha chiesto al comune in pratica di ristrutturare e dunque distanziare risorse per circa 900.000 euro che a quanto pare saranno stanziate, ma con qualche sacrificio che secondo Palumbo si riverserà sulle tasche dei dipendenti Ama. Per il capogruppo del PD è ora però di calare la maschera e dire la verità. L'azienda chiuderà in perdita per loro, contrariamente a quanto dichiarato dall'assessore Mannetti, anche nel 2019 per il quarto esercizio consecutivo. E se si vogliono allontanare le voci di una strategia impostata per arrivare alla privatizzazione dell'azienda, concludono c'è bisogno di serietà e concretezza, cosa che ora non c'è. È una situazione che va affrontata in modo deciso e anche facendosi carico della realtà, quella che fino ad oggi hanno legato, spergiurando che non mai avrebbero toccato i contratti dei dipendenti, quando invece adesso si fa strada proprio quest'ipotesi con dettagli che andranno a incidere sulle loro tasche.